Siamo con Fabio Siriani, consigliere di amministrazione del Savona, con Delega al settore giovanile. Si è conclusa oggi la stagione della Juniors del Savona con un pizzico di rammarico perché soprattutto nella ripresa abbiamo visto una squadra che ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, si entrava quel rigore di d'appelo, probabilmente avremmo visto un finale di gara ancora più combattuto. Però c'è da dire che la Juniors ha fatto veramente un percorso stimabile per tutto il corso della stagione. Sì, c'è un grande rammarico perché questa squadra mercoledì a Chieri avrebbe meritato sicuramente di vincere e ha avuto almeno 4-5 palle e gol dopo il nostro gol dell'1-1, non siamo riusciti a segnare il gol del 2-1 e nella dinamica dei 180 minuti di gioco forse è quello che è pensato di più. Oggi c'è un grande rammarico perché siamo partiti male i primi 20-25 minuti, poi la squadra ha reagito, ha subito un rigore, secondo me, che è molto dubbio perché io ho visto un tuffo del loro centravanti in area di rigore. Abbiamo subito il secondo gol, un bellissimo gol, frutto di un'azione forse casuale, però noi ci siamo disuniti e siamo riusciti a rientrare in partita con pieno merito. Certo, c'è quel grossissimo rammarico del rigore perché se entrava quel rigore, pur essendo in 10 contro 11, questa partita era tutta da giocare anche perché il Chieri era molto sulle gambe. La Juniores è un po' la punta dell'iceberg di tutto il movimento giovanile, siamo ormai a inizio giugno, che bilancio si può trarre da questa stagione per il Savona? Il bilancio è estremamente positivo, è vero, la Juniores è la punta dell'iceberg e qui nella Juniores abbiamo visto almeno 4-5 giocatori che avranno un grosso futuro perché il Savona, riteniamo, possa essere il trampolino di lancio per tanti ragazzi, per palcoscenici ben più importanti anche della Serie D. Ne abbiamo visti un paio in campo che secondo me hanno veramente delle grossissime potenzialità, l'abbiamo visti anche oggi e magari anche giocare sotto leva. Il bilancio è estremamente positivo perché la Juniores è arrivata ad un soffio dai quarti di finale del campionato nazionale e se fosse entrata nei quarti di finale lo avrebbe fatto con pieno merito. Ma non è soltanto la Juniores aver fatto bene, perché non dimentichiamo che domani gli allievi del 2001 si giocano il titolo regionale, i 2003 sono arrivati ad una partita dalla finale del campionato regionale, i 2002 solo per una circostanza legata alla classifica, non sono legati ai gironi, non sono riusciti ad entrare nelle finali regionali. E quindi comunque il bilancio è estremamente positivo perché poi nelle leve più piccole, sia il 2004 che il 2005 ha fatto un'annata strepitosa e il 2006 sono cresciuti tantissimo, per cui il bilancio è estremamente positivo. Noi lo possiamo toccare anche tangibilmente col mano perché vediamo che c'è un grossissimo interesse di nuovo per il Savona, per la maglia bianco-blu, che è comunque una maglia importante, per cui tantissimi genitori vediamo che si stanno avvicinando con grandissima curiosità a quello che è la realtà Savona, perché ha capito che la realtà Savona è comunque una realtà importante. Ripeto, non meravigliamoci di qui ai primi di luglio, vedremo tanti ragazzi del Savona spiccare il volo verso realtà importanti.